Paolo Villaggio, noto anche come ragionier Fantozzi Pasquale Zaccaria, conosciuto anche come Lino Benfi Renato Pozzetto, tac Cristian De Sica, delicatissimo Pacimo Boldi, faccia da perla Andrea Roncato, conosciuto anche come Loris Batacchi, capo ufficio Pacchi Braccio Polpaccio, nel dubbio me li faccio tutti e due Alessandro Aper Pensionati di tutto il mondo, unitevi Enrico Montesano Carlo Verdone, eh vabbè, che scegli di fare C'è pure checco, però lo faccio meno spesso Cius, più che cius Sottiega e te spiego Sei solo chiacchiere distintivo Ferruccio a pentola E svettura, la chiapa animali, come va la vita? E certo che va bene Trafico Ed altre ancora Ciao